Sono Stefano Rossi, amministratore delegato di Martino Rossi Spa di Cremona. Siamo qua perché abbiamo appena vinto con un nuovo marchio per la categoria New Entry prodotti plant-based. Il marchio che abbiamo appena lanciato è Bimi, dal payoff Bimi Be Good. Be Good perché è un prodotto buono, sostenibile perché è fatto di legumi. E' un preparato facile da utilizzare proprio per la realizzazione di burger, polpette o ragù solo con l'aggiunta di acqua e olio. Un prodotto buono, sostenibile e adatto per tutti.